Un anniversario di grande importanza per l'Associazione Falco, volontariato di protezione civile, che ha raggiunto i 21 anni di attività, anniversario che racchiude in sé una serie di eventi che si sono succeduti in questo lungo arco di tempo. 21 anni di emozioni e di speranze che nel bene e nel male hanno segnato ogni singolo membro di questa associazione, che da sempre presta il proprio supporto alla società nell'ambito della protezione civile. L'evento per celebrare questo lungo percorso di attività ha avuto luogo ieri, domenica 23 novembre, al Parco Van Vitelliano del Fusaro. Evento che si è tenuto esattamente a 34 anni di distanza dal catastrofico terremoto dell'Irpinia che vide nascere il Sistema Nazionale di Protezione Civile. La giornata ha avuto inizio alle 10 con una conferenza sul tema psicologia e volontariato, a cui hanno presenziato i vertici regionali del settore protezione civile e numerose associazioni. È un anniversario importante perché comunque rappresenta una serie di eventi che si sono succeduti nel corso dei 21 anni, come ho detto prima in conferenza, 21 anni di emozioni, 21 anni di esperienze, spesso esperienze purtroppo negative, nel senso che non negative per colpa nostra ma purtroppo perché abbiamo partecipato ad eventi che ci hanno fondamentalmente formato nell'ambito della protezione civile. L'ultimo di questo abbiamo parlato appunto del sisma Abruzzo, perché sisma Abruzzo anche perché voglio ricordare che oggi, 23 novembre, sono 34 anni dal terremoto dell'Irpinia, un terremoto che ha visto nascere appunto il Sistema Nazionale di Protezione Civile. Al pomeriggio invece alle 17 è stata tenuta un'attività informativa rivolta alla popolazione sulle manovre di disostruzione pediatrica svolte dal personale sanitario del 118 ASL Napoli Due Nord. In una zona ad alto rischio sismico come l'area Flegrea, un organo di volontariato nell'ambito della protezione civile riveste un ruolo di fondamentale importanza, motivo per cui una migliore collaborazione tra gli enti locali sarebbe di grande aiuto per facilitare e rendere più concreto il compito che quest'organo è chiamato a compiere. In questo momento che si parla di zona rossa, zona pericolosa per i campi Flegreide, per il rischio Vesuvio e anche per qualcosa che ci è qui sotto, quanto è importante la protezione civile? La protezione civile è basilare, noi lo diciamo sempre da 21 anni a questa parte. La protezione civile rappresenta un momento, un sistema, una rete a cui tutti devono partecipare, a partire dalle istituzioni che principalmente sono quelle deputate, fino ad arrivare al volontariato che poi costituisce appunto la colonna fondamentale.